Al Comune di Roseto degli Abruzzi la Commissione Urbanistica ha proposto una risoluzione urgente da presentare nel prossimo Consiglio Comunale con l'obiettivo di richiedere alla Regione l'abrogazione della norma taglia riserva e opporsi alla riperimetrazione dell'area protetta del Borsacchio. Nella risoluzione si chiede anche l'approvazione definitiva del piano di assetto naturalistico della riserva già adottato in Consiglio. Sì, noi abbiamo confermato quanto detto anche personalmente durante il Consiglio in cui abbiamo approvato e contraddotto tutte le osservazioni del PAN la nostra volontà è quella di partire con il piano di assetto naturalistico, quindi la palla adesso della Regione che deve approvare al di là di quelle due del libero di giunta che ha fatto, però la nostra volontà è quella di far partire il PAN finalmente, questo piano di assetto naturalistico con la riserva per cui è stato adottato e poi approvato, quindi con una perimetrazione di 1100 ettari. Questo è da dare le gambe finalmente a questa riserva per partire. Si è aspettato oltre 20 anni per cercare di trovare una strada, sembrava oggi l'arrivo ancora molto lontano. Noi speriamo di no perché si è aspettato la gente, i cittadini e anche i residenti della zona hanno aspettato tantissimo e finalmente siamo arrivati alla soluzione e quel dicembre è stato un fulmino a Celsereno che giustamente è sceso e ha fatto sì che si verificasse questa situazione, altrimenti noi eravamo pronti con l'adduazione fatta dalla presente amministrazione, noi siamo andati dritti per l'approvazione e quindi adesso noi andremo in Consiglio con una risoluzione che ieri grazie al Sindaco e al Presidente Consigliere Angra regionale, Agno Pavone della Commissione Urbanistica, abbiamo insieme stipulato, insieme a tutti i capigruppo anche dell'opposizione. Solo successivamente si potrà discutere di una possibile modifica dei confini della riserva, ma rispettando sempre la legge quadro nazionale sulle aree protette, qualora la Regione decida autonomamente di procedere in tal senso. Noi siamo a disposizione per tutelare quella che è la nostra riserva, più che altro perché è stato fatto un lavoro personalmente insieme, ripeto, al Sindaco e al Presidente Pavone di oltre un anno e mezzo per controdedurre insieme alla Regione. Poi arriviamo, dopo al culmine, quando eravamo arrivati, dopo aver fatto una serie di riunioni e di incontri, siamo arrivati alla fine dove è stata fatta questa scelta di riperimetrarlo, quando, ripeto, un anno e mezzo insieme alla Regione siamo impegnati per approvare questo PAN su 1.100 ettari, quindi noi siamo a disposizione per tutelare questa scelta, questa riserva.